Ieri in live ho spacchettato un pacchetto di set base giapponese, il primo, del 96, il set base giapponese Non ce l'ho qui dietro, ma sai cosa ho sbustato? Ho trovato Charizard Immagino dare che tu ti stia preparando a passare alle magiche per quello che... Col cazzo Allora ragazzi è venuto il momento Sono arrivato a circa il 34% della beta completa Uh che c'è fa Mazzo guarda forse potrei comprare le prime quattro